dove c'è la libertà di espressione musicale, non siamo legati a nessun filone e perciò possiamo esprimerci alla meglio. È il momento di Bad Cat con Loser! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti! 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 Walking Up! Qui a GBJ 21 e 28! Popolo di GBJ! È il momento di ascoltarci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!